Dai tre furgoni a 3.000 uova pasquali dai condizionatori ai flaconi di sapone, passando anche per i costumi di Halloween. C'era davvero di tutto in un maxicapannone di merce rubata di 600 metri quadrati scoperto dai carabinieri nel quartiere catanese di Aquicella. Il deposito sequestrato era nella piena disponibilità di un pluripregiudicato 39enne denunciato per ricettazione. Durante il blitz i militari sono riusciti a recuperare altre 100 uova pasquali finite già sui banchi di vendita di un panificio di via della Concordia. Anche il titolare dell'esercizio commerciale, un trentenne, è stato denunciato per ricettazione.